Ragazzi oggi si gioca Napoli-Udinese, vi ricordo che voi potete votare i migliori di questa partita su Far Rating Primo link in descrizione, mi raccomando scaricatela che è... Che è? Che cosa? Gratis! Gratis! È gratis! Non si paga! Non si paga! Hai ragione, hai ragione, può capitare Quindi ragazzi se volete votare i migliori di Napoli-Udinese dopo la partita scaricate Far Rating e votate i migliori di Napoli-Udinese Fate dei pagelli, potete anche vincere buoni Amazon Totalmente gratuito, primo link in descrizione Scaricatela che ci fate un grande piacere, mi raccomando E ne gioci di tu sangue ogni settimana a 10 Far Rating Scarica! Ciao amici di Youtube, qui con voi a Sciale Pumzai E oggi siamo in un nuovo video, oggi ragazzi live reaction di Napoli-Udinese Facciamona! Mi raccomando ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, perché papà? Perché ne hai tu sangue, non iscrivete Oggi ti hai fatto, ma io lui Ciao papà! E che passi? Ma ci dici bianchi, non fa male in dashpal Oggi, come sempre, come la normalità, sono in compagnia di Cristian Ciao ragazzi Di Pasquale Di Ciro E basta Ci manca una pezzuona Di papà! Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi, mi sa furtire, ma mi piace il l'ostenere per l'ultinesi, non papà, come si chiama la? Gattuso, a telecomandare il solito, alla panchina Se le casegni si spisse Cos'è buon maglio? De Paul E' bravo, non c'ho papà E' un bonus a Ciro Comunque bravo Indicazioni di bus Buon maglio Buon must Bravissimo Fabiano Vai Ehi ti Ma no Quello Vero Ma come l'hanno fatto? Fuori Giorno Fuori Giorno Sì Ma chi sei in post? Ma perché se fisse sempre con questo su dios? Cosa gli potessi sapere che gli si perdere? Oh, quello che c'è Oh, no No L'hai scena del fatto! L'hai scena! L'hai scena! Mamma mia C'è la mia non la fine una bistecchia un po' più grande la ferentina un po' più alta e qui ci hanno notato siamo bella ma io già l'ucollo saperemo tu vuoi sbagliare? che cazzo applausi? papro di ball mamma apri il mozio la gente di bolli è più bravo pure Mario Rui non è mai presente Mario Rui tu marchi facciamo la palla questa palla non è da passare che palla passa? ma da Mario Rui che scema l'ho ammacciso a Mario Rui A NOOOOO l'ho ammacciso si è caricato ma che cazzo ma tu sei scassato tu cazzo ma perchè non ti ha scassato? ecco cazzo ma io non ti segnalo ma io oggi capisco chi è che dice che è scassato chi? tu? mai Ritka Schwarz mai che Silvio c'è ragazzi è finito il primo tempo 1 a 1 ci vediamo al secondo tempo come sempre ciao ragazzi inizia al secondo tempo forza Napoli sempre ma è fallo arbitro ma è fallo ha ragione inizia inizia vai ahhh ma è già leggerata no ma è successo ma è successo sei nero nero ma è parata cazzo spina Salve 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 Matteo! 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 POLITARO! Noh! Matteo! Matteo! Ah finalmente Polita Finalmente Matteo Bravo a Politano Finalmente Con l'Udinese Ho fatto un po' di casino per Politano Mi fa piacere E Napoli vince la Serie Bions Non esageriamo Ragazzi votate i migliori Di Napoli Udinese Su fan rating ovviamente Votate Politano Nel primo link in descrizione Tanto è gratis Potete vincere anche buoni Amazon Quindi votate i migliori di Napoli Udinese Fate le vostre pagelle Su fan rating Primo link in descrizione Gratuitamente Detto questo Noi ci vediamo nel prossimo video Grazie a tutti per la visione Ciao ragazzi Ciao ragazzi A Maffepiz Va giù